E' una forte componente suicidiaria, depressiva, tanti tanti suicidi. Ma non è vero, io amo la vita! Ma perché volete farmi morire a tutti i costi? Facciamo amicizia piuttosto, parlate con me! Attenzione, è vero, ci sono parecchi casi di suicidio, però bisogna vedere caso per caso, nel senso che magari ci sono delle comorbidità molto pesanti, di disturbi psicotici, correlati, insomma, comunque ci sono persone come me che sprizzano di voglia di vivere da tutti i pori. Ditelo però cazzo, non fateci passare per quelli che sono solo depressi, con autostima di merda e che si vogliono uccidere, cioè ragazzi, io non sono così! Grazie! 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 Grazie!